allora diamo il benvenuto innanzitutto a tutti coloro che ci stanno seguendo da tutte le varie piattaforme social zoom e appunto da esna academy ricordiamo appunto che esna academy infatti è il centro di formazione permanente del circuito ed il social network eh che appunto contribuisce permette di seguire in streaming e on demand eh webinar corsi di formazione guide approfondimenti tecnici e rubriche trecentosessantacinque giorni l'anno ehm all'anno e H24 e oggi eh riprendiamo il ciclo di appuntamenti dedicati al nostro partner Solatube che fa parte di Infinity Motion con un webinar dedicato alla luce naturale canalizzabile in particolare con l'autorevole contributo del dottor Lorenzo Gallo il responsabile tecnico eh che salutiamo appunto e ringraziamo a nome di tutta ed il social network e cogliamo appunto nuovamente eh l'occasione per salutarlo e analizzeremo la progettazione di illuminazione naturale tramite condotti solari in luoghi senza faccio esterno il seminario tecnico argomenta il concetto della luce naturale canalizzabile un'entità intangibile ed architettonica che migliora il comfort visivo e la salubrità degli ambienti vivibili durante il webinar vedremo le caratteristiche essenziali di un luogo illuminato naturalmente che non confina con l'esterno la storia di Solatube è iniziata negli anni ottanta quando un solitario inventore australiano ha creato un prodotto che ha rivoluzionato il modo in cui eh la luce del giorno viene introdotta in un edificio conosciuto come dispositivo di illuminazione diurna tubolare TDD eh questo prodotto era un'alternativa compatta ai lucernari tradizionali dopo essere stato brevettato questo dispositivo è diventato il primo prodotto al mondo che ha trasformato l'industria dell'illuminazione naturale possiamo quindi eh effettivamente dire che la rivoluzione dell'industria dell'illuminazione naturale nel mercato residenziale e industriale non è avvenuta in una sola notte. Infinity Motion SRL in qualità di distributore esclusivo per l'Italia del marchio Solatube ha un'esperienza di oltre trent'anni nel settore. Lascio quindi adesso la parola proprio a Lorenzo Gallo ricordandovi ovviamente che durante tutto il corso dell'evento siete liberi di porre le vostre domande e appunto risponderemo. Buongiorno a tutti sono Lorenzo Gallo mi occupo da parte tecnico commerciale dei prodotti dei lucernari tubolari volevo capire se si vedeva bene la presentazione scusate eh per ora non la vediamo. Ok come allora sono su zoom e faccio esattamente condividi schermo condivido schermo ok adesso sì perfetto perfetto scusate allora iniziamo da capo sono Lorenzo Gallo mi occupo appunto dal punto di vista tecnico commerciale eh seguire i rivenditori gli architetti e progettisti sul mercato italiano in funzione alle normative vigenti e dal punto di vista applicativo e lucernari tubolari Solatube e diciamo che Solatube diciamo la luce naturale canalizzata è nato parecchio tempo fa addirittura nel tempo egizi si vedono delle pareti bianche che consentivano far filtrare la luce naturale nelle piramidi e utilizzavano delle pareti a base calce molto bianca a quel momento molto in quel punto molto riflettenti per poter far filtrare la luce all'interno di questi edifici che tutti conoscono. Logicamente la luce naturale è architettura e addirittura nel Pantheon 26 anni a.C. l'occhio gioca un ruolo fondamentale a un punto di vista architettonico e di illuminazione di questa bellissima struttura oppure se risaliamo a tempi più moderni le Corbusier con la cappella di Rechamp ha creato appunto un cavedio molto grande che consentiva la luce naturale di filtrare in tutta la profondità ed appunto a dare a quello che riguarda un aspetto illuminante e anche architettonico alla luce naturale. Nel 1904 Caudì ha fatto queste bellissime strutture dove questi cavedi invierano delle piastrelle con differenze colori con differenti indici di riflessione speculare delle piastrelle che man mano che si scendeva in profondità diventavano sempre più performanti per poter dare appunto un'illuminazione naturale a questi affacci a questi balconcini in questo cavedio e utilizzava appunto la finitura la riflessione di questi smalti che erano basati sulle piastrelle più si andava in profondità e più la luce penetrava in penetrava appunto all'interno del cavedio. Ecco è molto importante capire appunto nel passato un ruolo fondamentale della luce naturale nel periodo medioevo questo periodo molto buio e oscuro queste piccole feritoie erano appunto di dimensione molto piccolo per difenderci per difendere la struttura e le persone da quello che poteva succedere esternamente e invece vediamo nel 1700 il periodo luminista progettivo dove facevano filtrare la luce naturale che era sinonimo appunto anche di nuove idee ma entriamo un attimo nel vivo del discorso in quanto illuminazione naturale solare in inverno quando il sole è basso nelle prime ore della giornata vicino al tramonto le finestre le aperture perimetrali infissi apportano una luce sufficiente ma nel periodo quando c'è maggiore disponibilità di luce gli infissi ecco hanno qualche danno qualche limitazione all'illuminazione. È logico che quando parliamo di illuminazione zenitale poi vedremo parliamo anche di calore però ecco per una progettazione a livello di un edificio l'orientamento, l'ombreggiamento e tutti gli oggetti di disturbo creano quello che riguarda una una simulazione molto più veritiera per fare delle verifiche appunto progettuali in quanto il sole è inutile dirlo ha una rotta solare ben specifica in funzione alla stagione e all'ora e al periodo dell'anno però ecco il concetto base è quello che nel senso il serramento fa filtrare la luce naturale o solare quando il sole è basso all'orizzonte con un problema che in estate potrebbe essere la radiazione solare diretta quello che riguarda l'infrarosso perciò calore e oggi come oggi vengono utilizzati dei vetri con dei film schermanti che bloccano l'infrarosso per poter far filtrare la luce naturale senza andare a portare all'interno dell'edificio quello che riguarda la parte negativa del calore oppure i nostri progettisti utilizzavano dei semplici portici che andavano a ombreggiare in modo tale da eliminare la componente diretta dell'illuminazione solare per non avere calore l'interno dell'edificio ma tutto a discapito dell'illuminazione naturale nell'ambiente interno ecco quando parliamo di illuminazione naturale di day lighting non possiamo parlare di molteplici aspetti innanzitutto da un punto di vista un parametro ambientale diciamo un risparmio energetico effettivo in quanto se utilizziamo la luce naturale un determinato scopo e obiettivo specifico possiamo minimizzare l'impiego di energia primaria per l'illuminazione artificiale stessa forse possiamo diminuire carichi di luce artificiale la diminuzione dei carichi termici e la diminuzione dei picchi elettrici oggi vedremo appunto più nello specifico parleremo più della qualità dell'illuminazione tutti i risparmi connessi al costo del lavoro in quanto la luce naturale migliora la prestazione visiva da un maggior comfort e sicurezza e vi è un aumento di produttività questo è importantissimo in quanto purtroppo noi occidentali passiamo il 90 per cento del nostro tempo all'interno di edifici o di ambienti confinati che possono essere ambienti civili industriali commerciali e purtroppo tutti noi sappiamo benissimo cos'è casa lavoro lavoro casa e passiamo molto tempo in ambienti confinati però parlando di illuminazione si può oltre il risparmio di energia il comfort visivo e una riduzione di co2 nell'ambiente in quanto sfruttando la luce naturale andiamo a eliminare o possiamo eliminare in gran parte dell'illuminazione elettrica durante il giorno ma anche il benessere dell'individuo è fondamentale soprattutto per le normative igienico sanitarie e per la normativo ad esse connesse ecco l'architettura è la conquista della luce naturale ecco vediamo queste piccole feritoie denominate finestre che col passare del tempo e dei secoli sono diventate sempre più grandi in modo tale da far penetrare sempre molta più luce all'interno dei nostri edifici fino come vediamo a milano expo 2015 questi palazzi diversamente vetrati che consentono alla luce di entrare nel fabbricato stesso come succede sia da un punto di vista prettamente fondiario cioè nel tempo che sapete tutti che ha aumentato il valore a metro quadro di qualsiasi appezzamento no però se prendiamo un edificio a piastra nel prima del novecento vediamo che tutti i locali che confinano con l'esterno erano adibiti a che avevano luce naturale adibiti appunto a avere un determinato compito visivo che potrebbe essere quello di avere uffici oppure di avere degli ambienti abitabili e la parte interna parte sinistra erano i classici corridoi di collegamento privi di illuminazione naturale ecco l'avvento dell'illuminazione elettrica se logicamente riusciamo a fare determinati compiti visivi con con l'illuminazione elettrica però ecco questo tipo di illuminazione non è la medesima cosa dell'illuminazione naturale perché l'illuminazione naturale nel nostro organismo fa sì che che regola il nostro ritmo circadiano e abbiamo una frequenza completamente diversa dell'illuminazione ma naturale rispetto all'illuminazione artificiale semplicemente captiamo la luce esterna tramite una calotta captatrice con le lenti di fresnel trasportiamo la luce naturale con un condotto di altissima riflettenza che al concetto dello specchio ha molto più evoluto e con un'altra lente un'altra lente la diffondiamo internamente in un ambiente civile o industriale cosa succede da un punto di vista prettamente pratico viene utilizzato un diametro da 25 da 35 per applicazioni residenziali in quanto le pignate cioè le strutture dei nostri solai hanno una luce netta di solito di 37 e mezzo massimo 40 centimetri perciò capite bene che il diametro da 25 e da 35 consente l'inserimento o l'attraversamento di più piani della copertura di più piani senza andare a fare modifiche strutturali della copertura il diametro da 25 viene solitamente utilizzato per tutti i locali di servizio quali bagni cechi corridoi lavanderie e illumina bene 10 metri quadrati una distanza massima suggerita di 7 metri invece diametro da 35 consente di illuminare 15 metri quadrati avere una distanza massima suggerita di 10 metri lineari ecco la luce non risente della gravità perciò possiamo fare anche delle curve a 90 gradi andare in orizzontale e riportarci sulla verticale logicamente se non superiamo le distanze massime suggerite ecco abbiamo un ottimo risultato recentemente come vedete nella foto in alto centrale c'è un accessorio pedonabile che consente anche l'applicazione dei lucernari tubolari in lastici sorali dove si vuole mantenere la praticabilità della copertura o dell'astrico applicazioni invece commerciali dove solitamente abbiamo dei passi più ampi rispetto applicazioni residenziali delle strutture solitamente parliamo dai 60 agli 80 centimetri possiamo inserire un diametro da 53 o da 74 centimetri diametro da 53 può avere una configurazione con un diffusore tondo circolare dove non vi è la controsoffittatura quando viene lasciato sospeso oppure se abbiamo un plafone diciamo un controsoffitto strutturale modulare 60 per 60 possiamo avere un diffusore con planare quadrato alla controsoffittatura stessa come vedete vi sono quattro elementi dove diametro non cambia cambia solo la superficie di captazione ma vedremo perché successivamente invece il diametro da 724 millimetri come tipologia di prodotto viene chiamato punto di vista commerciale sky volt è modulare nel senso è un classico lucernario tubolare cilindrico può essere applicato questa parte inferiore che è un concentratore o un collettore o il collettore più concentratore ecco vi ho dato tra virgolette una quella che riguarda la gamma dei prodotti lucernari tubolari adesso entriamo nel vivo del discorso in quanto tutti i nostri lucernari tubolari possono essere equipaggiati con un otturatore perché logicamente come qualsiasi ambiente che vogliamo creare determinate condizioni di luce o anche riposare o dormire dobbiamo avere la possibilità di interrompere il flusso luminoso durante il giorno fino a un quasi spegnimento chiamo dico quasi spegnimento perché quando la valvola farfalla denominata della e dimmer è chiusa completamente passa l'un per cento di luce attraverso appunto questo tipo di di otturatore applicazioni residenziali e commerciali è possibile mettere dei kit luci aggiuntive in modo tale da avere un un lucernario tubolare plurifunzionale perciò quando vi è l'assenza di luce naturale esterna è possibile inserire una luce un truce a led o un classico attacco e 27 una lampada fluorescente in teoria non è più possibile però è sempre fattibile in quanto l'attacco e 27 consente anche delle lampadine a led di essere inserite nel tubolare ecco tutti sono equipaggiabili con la doppia calotta il diametro da 25 equipaggiabile anche con un kit di ventilazione aggiuntivo che consente l'estrazione d'aria per esempio per i magni ciechi oppure è possibile equipaggiarli con uno smart light che è un pannellino fotovoltaico che ricarica delle batterie per poter dare un'illuminazione lo chiamiamo segnapasso notturno soprattutto utilizzato nell'applicazione residenziali quando ci consente appunto per andare quando ci si alza di notte in bagno ad avere una minima illuminazione che non consente cioè che consente di non accendere la luce la luce del giorno è la fonte perfetta fate conto che tutti i riferimenti della luce artificiale rendono conto all'illuminazione naturale cioè nel senso l'illuminazione naturale è l'illuminazione perfetta da un punto di vista prettamente standard ed è il riferimento in quanto da un'illuminazione delicata dell'ambiente lo evidenzia una variazione significativa dell'intensità del colore e della sua intensità del giorno perché è variabile crea assolutamente degli ambienti più salubri in quanto stimola la mente e non dobbiamo dimenticarci che noi esseri umani siamo degli animali visivi in quanto la nostri occhi la biochimica riflettono questo l'ottanta per cento è dedicato all'elaborazione visiva del nostro organismo perché vi dicevo appunto che consente tra virgolette di regolare il nostro ritmo circodiano la luce del giorno turisceno rallentano tra virgolette diciamo eliminano la melatonina per aumentare la nostro la nostra prestazione la nostra attenzione perciò questo alternarsi tra giorno e notte la chiave della sincronizzazione del nostro allineamento dell' orologio biologico agli stimoli esterni perciò il ritmo circodiano influenza la veglia e i cicli del sonno la funzione neurologica e anche immunologica e qua vediamo un grafico siamo una scoperta piuttosto recente dove si vede che appunto via il nostro organismo secerna la massima quantità di melatonina proprio a mezzanotte proprio nel periodo più lontano della luce naturale e quando il nostro organismo viene lambito dalla luce naturale scende drasticamente il livello di melatonina nel nostro corpo è scientificamente provato che appunto la l'assenza di melatonina no evidenzia un'attenzione diciamo un'attenzione molto più elevata e invece la quantità di melatonina nel nostro corpo crea tra virgolette il senso di stanchezza e il sonno soprattutto ce l'abbiamo nelle ore centrali della notte attorno a mezzanotte perciò abbiamo bisogno noi esseri umani abbiamo bisogno della nostra vita naturale la nostra dose di luce naturale durante il giorno e consente appunto di regolare il nostro ritmo circodiano e potete benissimo immaginare che illuminazione elettrica non avendo questo tipo di frequenze non riesce a stimolare il nostro organismo anche se ci consente di svolgere determinati compiti visivi perciò abbiamo bisogno tutti una nostra dose di luce naturale durante il giorno per poter innanzitutto non avere problematiche salubri ed ecco perché i rapporti illuminanti sono ben evidenziati la normativa edilizia per avere dei luoghi salubri e vivibili un attimo oggi come oggi è possibile fare dei calcoli illuminotecnici utilizzando dei software più o meno avanzati che consentono appunto di verificare l'illuminamento l'alluminanza su determinati piani su superfici verticali o addirittura sulle sulla parte del controsoffitto per vedere appunto a priori prima dell'applicazione a fare delle simulazioni abbastanza veritiere faccio un altro cenno su quello che riguarda gli effetti benefici e gli effetti negativi per la carenza di luce naturale in quanto siamo passati in un periodo della pandemia diciamo appena finita dal punto di vista prettamente ma appunto la carenza di luce naturale in un individuo può avere diversi aspetti negativi dal punto di vista psicologici fisiologici e psicofisiologici dal punto di vista psicologico stress depressione seasonal affective disorder che sarebbe una depressione che è molto sviluppata a nord europa o nel nord emisfero dove vi sono appunto periodi prolungati di assenza di luce naturale e comunque l'irritabilità e l'alterazione dell'equilibrio neurovegetativo sicuramente è negativo dal punto di vista psicologico in ambienti o negli individui che non hanno una sufficiente non sono sono esposti ad una sufficiente luce naturale dal punto di vista fisiologico invece abbiamo una tendenza alla miopia all'affaticamento oculare tutti ci accorgiamo che lavorare in assenza di luce naturale con la luce elettrica magari di sera o di notte abbiamo un affaticamento oculare e semplicemente ci sfreghiamo gli occhi per appunto per andare insomma è un riflesso per il nostro affaticamento oculare può portare cefalea e abbiamo un abbattimento della percezione visiva e esalta appunto i difetti dell'occhio sempre la carenza di luce naturale dal punto di vista psicofisiologico abbiamo un'alterazione del nostro ritmo circadiano orologio biologico e un'alterazione del metabolismo e anche di conseguenza un'alterazione della pressione arteriosa invece se siamo esposti in individui o gli ambienti soprattutto da luce naturale abbiamo degli effetti benefici dal punto di vista battericido cioè abbiamo la distruzione di germi e batteri prodotti nell'ambiente per aerodiffusione fisiologico abbiamo la stimolazione della produzione della vitamina d abbiamo effetti antirachitici l'attivazione del ricambio calcio fosforo abbiamo un effetto positivo sulle attività endocrine e logicamente anche un effetto sul metabolismo dei glucosi all'aumento delle difese immunitarie invece dal punto di vista psicofisiologico mantiene un corretto equilibrio dell'orologio biologico del ritmo circadiano e l'alternanza della veglia e riposo abbiamo un aumento della produttività e l'aumento dell'attenzione ecco oggi come oggi tutti voi progettisti o se lavorate appunto nell'ambito dell'edilizia vi vi scontrate con i famosi rapporti illuminanti dove guarda caso ho fatto un ho fatto una simulazione sulla superficie 10x10 con delle finestre con dei serramenti posizionati in questo caso a nord ho fatto una simulazione con software di calcolo ho preso in considerazione un cielo 50 per cento coperto e guarda caso abbiamo su 100 metri quadrati l'ottavo della superficie finestrata per avere l'agibilità pari a 12,75 metri quadrati vedete da questo calcolo abbiamo un illuminamento medio 229 lux però con una forte quantità di luce molto maggiore vicino al serramento e più ci si allontana da esso e più abbiamo tra virgolette un abbattimento della luminanza ecco vedete questo rapporto diciamo che l'illuminamento minimo diviso l'illuminamento massimo quando è uguale a 1 questo rapporto vuol dire che appunto il locale ha un'uniformità di illuminazione omogenea e costante e più questo indice inferiore più questo locale ha una disinformità di illuminazione una non omogeneità di illuminazione andiamo a vedere perciò ricordatevi un illuminamento medio 229 lux un rapporto tra l'illuminamento minimo e l'illuminamento massimo di 0,026 e se vado a fare una simulazione ruotando semplicemente l'esposizione cardinale cioè posizionando i serramenti a sud vedete che avete un illuminamento medio che sale addirittura a 816 lux un rapporto tra l'illuminamento minimo illuminamento massimo che non si discosta più di tanto da quello precedente e vedete che abbiamo appunto questa disomogeneità di un'azione ancora più elevata perché qui logicamente considerando un cielo parzialmente coperto vicino al serramento avremo bisogno di oscuranti tende persiane per poter abbassare a diminuire l'apporto carico luminoso ecco inserendo invece tu sei sulla tuba da diametro 53 insola master di s 750 c che viene identificato c in quanto a un diffusore quadrato 60 per 60 beh vediamo ci svincoliamo assolutamente da quello che riguarda l'esposizione cardinale dell'edificio che è molto importante abbiamo una superficie che ha contatto con l'esterno vedete di 1 solo 1,32 metri quadrati abbiamo un aumento medio di 325 lux ma vedete questo rapporto tra il illuminamento minimo e l'immunamento massimo è di 0,254 10 volte migliore rispetto al serramento preso in considerazione in precedenza che corrispondeva all'ottavo beh allora c'è questo tipo di di lucernario tubolare può aiutare il progettista a creare un risparmio energetico a ridurre il carico termico e avere un'illuminazione naturale migliore assolutamente sì e l'abbinamento tra serramenti e lucernari tubolari logicamente può essere fatto ed è la carta vincente per normativa le applicazioni sulle coperture il pannello fotovoltaico deve rimanere a una distanza maggiore o uguale di un metro perciò dei lucernari industriali tradizionali che hanno una superficie molto elevata consente un inserimento dei pannelli fotovoltaici ridotto perché sulla tuba portano molta più luce rispetto a un lucernario e sono più piccoli e vedete che nel campo appunto del fotovoltaico sono molto diffusi in quanto le caratteristiche della loro superficie consente appunto di avere maggiore produttività elettrica su questo caso la copertura questo la copertura vedete una fotografia dove sulla tuba un locale molto profondo può essere inserito in maniera puntuale per eliminare appunto quella quella è un calo di illuminazione dalla distanza del serramento di illuminazione naturale dalla distanza del serramento oppure applicato in una sala d'attesa che non confina con l'esterno dove si può vedere che insomma questo locale venne illuminato con luce naturale che senza questo tipo di tecnologia non era possibile o non si avevano determinati risultati applicazioni dove vogliamo eliminare contrasto vedete a sinistra questo fabbricato dove esposto a sud vi è una forte quantità di luce naturale all'ingresso ma appena superata la soglia vi è una scarsità di illuminazione naturale progettista ci ha chiamato appunto per andare scusate per andare a uniformità non informare questa illuminazione rendere il locale più vivibile soprattutto in questo questo ambiente molto ampio che dà servizio e accesso a diversi servizi ecco quello che vi dicevo scusate quello che vi dicevo prima che la luce naturale è presa come un punto come fonte di luce perfetta da campo di illuminazione artificiale perché ha un indice di resa cromatica uguale a cento o in inglese viene chiamato color rendering index e vedete che questa palestra è illuminata in questo caso con delle rampe fluorescenti vedete il parche come appare e vedete invece con l'illuminazione naturale scusate come appunto in questo caso il legno appare con i suoi vericolori e vedete come come cambia drasticamente da un punto di vista l'indice di resa cromatica tra un'azione artificiale e quella naturale anche se oggi come oggi i led si avvicinano a una resa cromatica ma non è la stessa cosa dell'illuminazione naturale da un punto di vista prettamente termico e acustico nel residenziale diametro da 25 abbiamo un isolamento acustico del 25 maggior o uguale a 68 db e nel 35 tra virgolette maggior o uguale a 65 db questo tipo di risultato consente l'inserimento in ospedale o luoghi di culto e da un punto di vista della trasmittanza termica il prodotto standard una trasmittanza termica scusate di 1.3 e posizionando una calotta aggiuntiva e quello che riguarda la calotta aggiuntiva e andando isolare il condotto possiamo arrivare a 0.5 o a 0.7 applicazioni interessanti dove magari abbiamo bisogno di comportamentazioni ray è possibile applicare dei collari al fuoco che in caso di fiamma riducono diciamo stringono distruggono completamente sulla tuba ma fa sì che per per un 120 minuti la fiamma non si propaga alla struttura superiore e poi quando parliamo di applicazioni in commerciali abbiamo sempre le trasmittanze termiche insomma ridotte andando a posizionare quello che riguarda dei tip che sarebbero degli elementi che consentono di andare a stratificare nelle varie zone il passaggio d'aria o di calore serramente o finestre diciamo quando parliamo di illuminazione naturale serramente le finestre evolucionari tradizionali cos'è che fanno fanno filtrare la luce ma si può appunto avere un abbagliamento perciò quello che riguarda degli ombreggianti delle tende degli oscuranti interni ed esterni sono quasi obbligatori perché la luce può creare abbagliamento questa rete la chiamo hotspot questa rete luminosa varia in funzione all'altezza solare l'ora del giorno e appunto il calore un altro elemento fondamentale che dobbiamo verificare quando prendiamo queste grosse vetrate perché appunto per limitare l'effetto serra ecco bisogna prendere determinati provvedimenti i lucernani tradizionali diciamo che l'abbagliamento l'hotspot non cambia c'è queste macchie fastidiose che si possono spostare in funzione all'altezza solare sono sempre presenti e comunque l'illuminazione naturale è sempre vengono sfruttate questo tipo di ferramenti o lucernari per illuminare le zone al di sotto o che confinano con l'esterno invece sulla tube può essere riporato al controsoffitto la diffusione è omogenea e appunto abbiamo questa illuminazione degli hotspot e il calore immesso è quasi in risorio ecco non è zero perché è impossibile però è veramente minimo ecco oggi come oggi ci chiedono le applicazioni residenziali ma come mai devo mettere un solo devo mettere un solo tubo che differenza c'è forse è meglio dire tra un solo tubo e un lucernario residenziale o industriale in un in un ambiente illuminato internamente ecco ho fatto una simulazione con un programma illuminotecnico a roma a maggio una giornata serena e vediamo questo lucernario 60 per 60 con la luce solare diretta cosa succede col passare del tempo abbiamo una macchia che si sposta la chiamo hotspot in funzione all'altezza solare ecco la maggior parte delle volte per chi ha una mansarda con un lucernario diciamo è quasi impossibile non avere un oscurante una tendina una tapparella perché questa macchia di luce questa fonte di illuminazione dove all'interno della macchia abbiamo 100 e fuori dalla macchia abbiamo zero è è pressoché da molto fastidio invece sulla tube vedete che col passare del tempo magari può cambiare quello che riguarda l'intensità luminosa ma la diffusione rimane sempre omogenea come se fosse una lampada elettrica perciò è molto più sfruttabile e da molto meno fastidio e con un piccolo foro abbiamo una grandissima diffusione internamente ecco capite benissimo facendo la simulazione un ambiente scolastico vedete sempre questi hotspot che si spostano in funzione dell'altezza solare possono dare sempre un fastidio c'è bisogno sempre di oscurarli e c'è per obbligo per legge vi deve essere la possibilità di oscurarli e sulla tube invece illuminano molto ampiamente questa aula scolastica e vedete che abbiamo anche un'illuminazione per fare delle verifiche ma ritengo molto buona anche sulle superfici verticali questo è un piccolo rendering dove si vede che sulla tuba attraversa un vano tecnico per andare a un semplice contro soffitto può attraversare uno o più piani per andare appunto illuminare proprio puntualmente dove ci serve applicazione residenziale ecco vedete un'applicazione residenziale dove è stato installato un bellissimo lucernario che consente sì una bellissima vista in un cielo blu posizionato un classico cavedio di colore bianco e logicamente cosa abbiamo di positivo logicamente abbiamo un accesso visivo verso l'esterno da un punto di vista illuminante tecnico questo cavedio assorbe il 90 per cento della luce e da un punto di vista prettamente energetico abbiamo un vano una cubatura in più da riscaldare con una dispersione termica sicuramente più elevata sulla tuba invece capta la luce la trasporta manteniamo un contro soffitto completamente complanare e vedete la differenza cioè nel senso riusciamo a ridurre sia diciamo carico energetico disperdente ma anche il volume riscaldabile se si utilizza sulla tuba rispetto a una soluzione classica che sarebbe lucernario e cavedio ma con delle performance illuminazione molto molto più elevate applicazione simpatica dove è stato utilizzato un lucernario tradizionale e un classico cavedio e sopra di esso posizionato una carotta captatrice dove si vede il condotto del solatù che fa una curva 90 gradi per poter portare la luce naturale in questa cucina no che non confina con l'esterno perciò con una soluzione architettonica interessante e qua vedete dove ho la freccina questa scatolina che sarebbe il nostro turatore che consente appunto lo spegnimento l'accensione della luce naturale durante il giorno semplicemente con una valvola farfalla vi ricordate l'edificio a piastra di prima dove il collegamento centrale che solitamente una villetta mono bifamiliare la scala è priva di illuminazione naturale oggi come oggi si può portare luce naturale e inondare tra virgolette luce naturale un vano scala che proprio che non confina con l'esterno che è posizionato al centro di esso applicazioni architettoniche differenti dove appunto viene utilizzata la luce artificiale e la luce naturale per fare appunto dei giochi di luce ritengo interessanti e qua vedete quello che riguarda un'applicazione in copertura con delle tegole marsigliesi insomma dove possiamo appunto tramite dei comignoli svincolarci anche dall'orientamento cardinale del falda nord per poter avere una maggiore esposizione alla luce solare diretta della nostra calotta cattatrice perciò dal corridoio cabine armadio bagni ciechi riusciamo avere quello che riguarda la luce naturale dove prima non era possibile ecco questo mi piace un sacco come un'applicazione che è stato un cliente che ci ha chiamato durante il periodo covid dove ha riqualificato uno sgabuzzino dove si doveva chiudere da tutti gli impegni domestichi i bambini inclusi durante il giorno per poter lavorare in smart working e ha creato un ufficio completamente in un ex sgabuzzino per trovare la sua isola felice e di tranquillità e poter svolgere attività lavorativa abbiamo utilizzato in questo caso un sola tube di S290 per poter apportare luce in questo ambiente corridoi solitamente corridoi sono sempre applicati nel zone centrali o cabine armadio appunto dove la luce risalta i veri colori e viene molto utilizzato appunto per nel cabine armadio perché innanzitutto avere una finestra in una cabine armadio fa sì che non si riesce a sfruttare tutto il perimetro invece avere una luce zenitale consente di sfruttare al massimo diciamo le pareti laterali della cabine armadio stessa cucine questo volevo farvi vedere un esempio di applicazioni sul residenziale dove oggi come oggi sopra l'isolante c'è una barriera vapore poi c'è un tessuto non tessuto impermeabilizzante sopra di esso c'è può esserci listello contro listello o solo listello ma andiamo a posizionare due tipi di scossaline che consentono una doppia impermeabilizzazione una doppia tenuta all'acqua sia a livello della barriera vapore che a livello della tegola stessa qua vedete un'applicazione la nostra scossalina applicata in una guaina poi se c'è il listello contro listello si mette una torrettina di estensione una scossalina universale che poi andrà appunto raccordata alle tegola stesse qua vedete nel complesso una fotografia dove l'impatto del prodotto sulla copertura è veramente minimo oppure delle classiche coperture liguri dove viene utilizzato questo tipo di finitura ed è possibile perfettamente inseribile anche sulla tubo o delle semplici coppò Francia e Grecia o un centro storico in questo caso è Parma dove è stato applicato appunto un DS-160 per illuminare un bagno cieco e questo tipo di applicazione ecco può convivere tranquillamente anche con gli edifici storici di un tempo applicazione a mansarda nel senso se vogliamo mantenere il diffusore con lo stesso inchinazione del soffitto del plafone nella parte superiore dell'edificio possiamo mettere delle scosse inne piane che consente appunto al diffusore di avere la medesima inchinazione oppure possiamo spostarci con delle curve per arrivare appunto prefissato partendo appunto dalla copertura arrivare a un controsoffitto attraversando un solo tetto non abitato ecco qua vedete delle applicazioni con la scosse inna piana dove il plafone rimane tra virgolette sulle perline e questo una famosa piazza di Torino piazza San Carlo un palazzo vincolato che appunto queste solatube rimangono rettamente nascosti in quanto questa soluzione rende quasi invisibile all'occhio nudo ecco queste sono foto fatte con degli zoom e veramente sono diciamo visibili ma proprio minimamente perciò qualsiasi ambiente oggi come oggi può essere illuminato naturalmente basta poter avere una superficie esterna lambita colpita dalla luce solare e questa luce può essere trasportata in cucine bagni ciechi corridoi bagni scale tutti i locali privi o dove vi è una scarsa quantità di illuminazione applicazione in condomini nuove strutture è possibile appunto andare a illuminare dei bagni ciechi in questo caso sono utilizzati dei diametri 25 che consigliamo di non superare i 7 metri di distanza per illuminare 10 metri quadrati con il progettista siamo spinti ben oltre abbiamo fatto quasi 12 metri di lunghezza per andare a illuminare 4 metri quadrati di bagno perciò sono stati applicati di questo tipo di scossaline e un cavedio dove ogni sola tubo si fermava a ogni singolo piano e vedete in questo caso il diffusore inclinato a 45 gradi per andare a illuminare il centro del bagno e queste sono la fase di cantiere che si vedono i tubi che a ogni piano sulla tubo uno si ferma a ogni piano per poter illuminare la parte interna dell'edificio applicazioni tipo bocche di lupo è possibile applicare questo tipo di calotta captatrice e illuminare la parte sottostante però tra virgolette ha una pecca quello che si perde la pedonabilità o del giardino o dell'elastico solare in questo caso che vedete è un elastico solare e questo tra virgolette è stato sostituito una bocca di lupo perciò ecco è stato creato un accessorio che consente la pedonabilità sulla superficie di captazione e portare la luce naturale al di sotto di essa e qua vediamo quello che riguarda un bellissimo terrazzo un sola tubo con l'accessorio periodonabile applicato al terrazzo stesso con un vetro stratificato un magnetronico antiscivolo che appunto rispecchia le normative vigenti per poter avere appunto poter sfruttare anche il calpestio e qua vedete al di sotto di questo bellissimo terrazzo via un ambiente interno un salone per poter appunto applicare e illuminare la parte interna senza la fastidiosa calotta che un terrazzo come questo può dare fastidio anzi applicazioni in sostituzione di bocche di lupo pensate che un solo tubo di S290 diametro da 35 con accessorio pedonabile punto di vista di illuminazione equivale a bocche di lupo 80 per 120 ecco qua vedete un'applicazione in Liguria dove è un pavimento galleggiante in legno dove è stata fatta appunto questa gettata poi dovrà essere ripestinata all'impermeabilizzazione e il nostro pavimento galleggiante dovrà arrivare a filo del nostro accessorio oppure sempre le sostituzioni di bocche di lupo logicamente applicandole così vicino all'edificio è molto importante vedere all'esposizione cardinale l'ombreggiamento e sulla tuba con questo tipo di accessorio funzionerà come si deve quando viene colpito dalla luce solare diretta quando in zona d'ombra logicamente funzionerà meglio di una bocca di lupo però ecco non ha un 100% delle sue potenzialità come qualsiasi superficie semi trasparente o trasparente all'ombra applicazione una zona carrabile in quanto non potevamo mettere delle carotte di captazione perché viene utilizzato come parcheggio questo tipo di cortile perciò hanno voluto essere con l'accessorio pedonabile e carrabile fino ai veicoli leggeri cioè guidabili con la patente B in modo tale appunto da sfruttare appunto questo tipo di captazione su un pavimento piano e parcheggio durante il giorno e logicamente se uno ci mette sopra la macchina insomma la luce non riesce più a filtrare però è una soluzione architettonica non invasiva da un punto di vista strutturale e consente appunto di apportare la luce naturale nel piano antecedente o addirittura un controsoffitto al sotto di esso qua avete un'applicazione molto interessante addirittura con del marmo dove appunto questo elastico solare sottostante è proprio una cucina e questi perciò sola tubo accessori pedonabili consentono di apportare luce internamente senza perdere il calpestio di questo bellissimo terrazzo superficie esterna i diffusori da un punto di vista estetico ce ne sono diversi cambia l'angolo di diffusione e quello che riguarda la prettamente cambia l'angolo di diffusione nella loro estetica lascio a voi quello che riguarda le possibili scelte e quando parliamo invece di prodotti commerciali appunto abbiamo dei diametri più importanti da 53 centimetri dove visto in precedenza diffusore tondo per applicazioni sospese o diffusore quadrato 60x60 per una diffusione complanare ecco vedete la calotta liscia e la calotta con delle lenti di fresa sono due prodotti diciamo diametri identici ma con una superficie di captazione completamente diversa ecco vediamo il perché ecco qua invece vediamo l'M74 dove può essere cilindrico classico lucernario tubolare però quando il diffusore supera i 6 metri dal calpestio questa enorme capacità di diffusione che ha un lucernario tubolare può diventare un difetto perciò questa campana borgamente chiamata campana ma non è altro che un concentratore che quando il diffusore supera i sementi di altezza riesce a restringere il fascio luminoso in modo tale da spingere la luce più in profondità verso un ipotetico piano di lavoro posizionato sul calpestio ad altezze ad altezze considerevoli oppure possiamo avere un collettore che consente di raccogliere più luce naturale esterna abbinato sempre al concentratore per avere vedete dei livelli di illuminamento delle forie del lumen output del diffusore completamente differenti rispetto a quello che si guarda a un lucernario tubolare classico qui vedete un lucernario M74 configurazione standard dove allarga molto il corno di luce oppure un centro logistico dove qui sono queste scaffalature addirittura ad un'altezza di 23 metri ed è stato utilizzato un concentratore per proiettare verso il basso l'illuminazione oppure un concentratore in questa palestra e collettore per poter appunto avere meno fori in copertura perché oggi come oggi la copertura è diventata un vano tecnico perciò in alcuni casi poter avere meno fori sulla copertura e poterlo sfruttare maggiormente consente appunto al progettista di avere più spazio tecnico e vedete la differenza tra un concentratore e collettore per avere un illuminamento medio di 220 lux il M74 standard con il concentratore ci servono 16 unità invece possiamo ridurla a 9 unità con collettore e concentratore ecco parliamo comunque di un ambiente volumetrico importante 20x20 e altezza 10 per avere un illuminamento medio di 220 lux con un cielo medio ecco non è proprio poco e qua vedete un'applicazione in questo momento con una guaina in poliolefina o volgarmente chiamata pvc si fanno dei cordoli dei caminetti di determinate dimensioni e queste le nostre scosserine fanno da cappello in modo tale da garantire diciamo garantire infiltrazione dagli agenti atmosferici questa è la soluzione più usata con la poliolefina in quanto i parametri ambientali oggi come oggi diciamo la riflettenza su colore bianco aiuta a ridurre il carico termico e ecco stiamo facendo parecchie applicazioni con questo tipo di finitura in quanto appunto è un po' la nuova tendenza qua vedete quello che riguarda internamente il solatube in un soffitto dove in questo caso sto portato proprio con planare alla trave e questa è una palestra dove chi progetta palestra sa benissimo che la luce solare può essere un fastidio soprattutto per i giocatori in quanto può creare abbagliamento e perciò una luce zenitale diffusa consente appunto di ridurre quelle problematiche dovute all'illuminazione naturale applicazione a magazzino dove è stata utilizzata in questo caso una guaina e poi sopra una ghiaia diverso colore solitamente si utilizza di colore bianco entrando vivolo nel discorso il sistema di illuminazione naturale sulla tube consente appunto di avere di superare quello che riguarda i rapporti illuminanti o requisiti cogenti logicamente nel terziario la ventilazione meccanica controllata tramite la normativa 10 339 è equiparata a reazione naturale il fattore di luce diurna appunto consente di rendere agibili o abitabili i luoghi di lavoro ed è obbligatoria per il decreto 81 2008 per la salute dei lavoratori se vogliamo invece ridurre il carico energetico dovuto all'illuminazione naturale dobbiamo fare riferimento alla 12 464 o la 10 380 ecco entriamo nel vivo discorso del fattore di luce diurna perché voi progettisti siete abituati a lavorare con i rapporti illuminanti dove solitamente un ottavo un decimo del rapporto illuminante in funzione al compito visivo o la destinazione d'uso del locale e qua vi è un circolare del 1967 e poi successivamente il 1975 dove si parla di percentuale di fattore di luce diurna prettamente per l'indizia scolastica ospedaliera dove appunto si richiede l'1% in tutti i locali di abitazione invece l'indizia scolastica anche lì è suddivisa in funzione alla destinazione d'uso però vi è una normativa la 10 840 del 2007 che poi vediamo successivamente che è molto più recente e ha dei limiti dei fattori di luce diurna in funzione proprio alla destinazione d'uso residenziale però vediamo un attimo cosa dice il bollettino ufficiale della regione Lombardia in questo caso e voi tutti conoscete questa frase qua cioè tale requisito si ritiene soddisfatto qualora la superficie finestrata verticale utile non sia inferiore al 12,5% o un ottavo della superficie del pavimento dello spazio abitativo utile tale superficie in relazione in particolare condizioni climatiche può essere ridotta a non meno di un decimo tale norma vale solo per i locali in cui la profondità non supri 2,5 volte l'altezza del voltino della finestra misurata dal pavimento e quando non esistono ostacoli come precisato successivamente dell'articolo ecco però leggiamo la frase precedente che non tutti in questo caso ci fanno caso la superficie finestrata dovrà assicurare in ogni caso un fattore medio di luce di urna non inferiore allo 0,018 misurato nel punto di utilizzazione più sfavorabile del locale ad un'altezza di 90 cm dal pavimento ecco perciò vedete che la superficie illuminante è una semplificazione del fattore di luce di urna perciò se andiamo a fare delle simulazioni a dimostrare che il nostro locale il nostro ambiente interno ha un fattore di luce di urna che rispetta le normative vigenti possiamo avere l'abitabilità o l'agibilità da un punto di vista regolamento edilizio o normative igienico-sanitarie entriamo a parte della regione Emilia-Romagna dove appunto hanno insomma sono stati la regione che sta più avanti in assoluto con l'apporto del fattore di luce di urno e addirittura equiparano i luci annari tubolari o tutte le aperture semitrasparenti in copertura delle superfici tre volte superiore di loro in quanto c'è più luce però ecco il fattore di luce di urna è nazionale basta dimostrare quello che riguarda questa percentuale di luce esterna invece se vogliamo ridurre il carico elettrico la 12464-1 dove appunto la normativa europea afferma che lo standard non fornisce soluzioni specifiche non limita la libertà ai progettisti di esplorare nuove tecniche per attrezzature innovative ecco perciò possiamo ridurre il carico elettrico aumentando diciamo la luce naturale dell'edificio e qua vediamo invece le raccomandazioni della 10840 del 2007 dove entra tra virgolette si evidenzia che un edificio alberghi residenze un locale definito come soggiorno dobbiamo avere sì un fattore di luce di urna del 2% ma basta l'1% fino alla profondità di almeno metà dell'ambiente invece una camera da letto dobbiamo avere il 2% ma lo 0,5% fino alla profondità di almeno metà dell'ambiente la cucina invece con il locale più abitabile dobbiamo rispettare il 2% vedete è molto più dettagliato rispetto alla normativa del 67 e vi dà delle indicazioni molto più chiare perciò è abbastanza chiaro che se vogliamo ridurre i carichi di energia in un edificio dobbiamo utilizzare una normativa di riferimento che è l'illuminazione 12464 se invece dobbiamo soddisfare i parametri giornico-sanitari per avere l'agibilità dobbiamo appunto il fattore di luce di urna per farci carico di questo calcolo e in funzione alla destinazione d'uso dobbiamo garantire la percentuale di illuminazione esterna ecco quello che riguarda questo bellissimo Dior esterno completamente tutto in vetro magari sicuramente è bellissimo mi piace ma da un punto di vista applicativo alle nostre latitudini non è il massimo in quanto questa superficie diversamente vetrata o semitrasparente diciamo soprattutto quando consideriamo la luce solare diretta fa un effetto serra che va a surriscaldare notevolmente l'ambiente interno e vedete invece in basso a destra sempre un Dior completamente diverso ma vedete che utilizza delle lamelle per creare appunto l'ombreggiamento quella famosa penombra che noi cittadini mediterrani conosciamo benissimo cosa vuol dire invece gli anglosassoni o le persone che vivono a nord Europa non sanno nemmeno cos'è in quanto non hanno questa problematica è importante capire che se andiamo a fare una una modellazione come la normativa con il cielo completamente coperto se vogliamo dimostrare davvero un certo livello di illuminamento poi nella realtà il sole esiste ecco perché in questo caso un centro commerciale dove avevano una galleria molto profonda una superficie molto elevata hanno dovuto creare un enorme lucernario per soddisfare il rapporto illuminante e poi d'estate con la radiazione solare diretta l'energia dei condizionatori non riusciva a raffrescare appunto l'ambiente interno e diciamo il manutentore del centro commerciale ha risolto questo problema mettendo degli agricoli per creare appunto un carico calore inferiore per andare a ombreggiare la luce entrante delle energie entrante da questo enorme lucernario se ci sono degli studi fatti dell'università di Cambridge dove se vogliamo ridurre notevolmente l'illuminazione artificiale con l'illuminazione naturale dobbiamo fare attenzione a questo rapporto diversamente vetrato se posizionato a sud in quanto se si supera un determinato rapporto l'efficientamento di riduzione del carico energetico per l'illuminazione fa sì che non è più vero in quanto l'energia che si dovrà utilizzare un'energia per il raffrescamento perciò se invece andiamo a fare lo stesso ragionamento su una copertura dove la quantità di luce o di illuminazione o di energia è maggiore questo rapporto deve essere bensì inferiore notevolmente inferiore perché la luce zenitale sia come quantità e come intensità è maggiore ma anche a livello calorico perciò questo rapporto tra interno e esterno deve ridurre drasticamente perché altrimenti non avremmo più un beneficio di riduzione energetica dovuto all'illuminazione naturale in sostituzione all'illuminazione artificiale ma abbiamo un aumento di costi in quanto l'energia entrante va dissipata va raffrescata con dei sistemi appunto di raffrescamento ecco non sto a dirvi perché la luce zenitale è maggiore insomma rispetto alla luce orizzontale in quanto se prendiamo due centri concentrici la nostra distanza la nostra atmosfera è minima perciò il carico diciamo il nostro filtro è inferiore zenitalmente perciò abbiamo una quantità di calore e intensità luminosa maggiore ecco quando parliamo di luce parliamo di una vasta gamma di di onde diciamo logicamente parliamo illuminazione dal raggi gamma fino all'onde radio ma quando parliamo di spettro visibile cioè visibile all'occhio umano parliamo con una lunghezza d'onda una lunghezza di frequenza che varia dai 400 ai 700 nanometri tutto quello che c'è prima o tutto quello che c'è dopo il nostro occhio non lo percepisce anche se c'è ecco col Politecnico di Milano Infinity Motion ha sviluppato un programma di calcolo in funzione delle condizioni di cielo che consente appunto di andare a fare delle verifiche progettuali di flusso fotometrico in funzione alla località geografica alla lunghezza del condotto alla tipologia di condotto se vi sono curve contro curve per poter garantire una quantità di uscita di luce garantita ecco qua prendiamo un nostro foglio di calcolo possiamo fare delle simulazioni con cielo completamente coperto parzialmente coperto completamente coperto andare a fare delle verifiche dinamiche con dei programmi di simulazioni che ci consentono appunto di vedere cosa succede nelle varie ore del giorno a fasi dell'anno e qua prendiamo in considerazione un elemento molto profondo dove un locale molto profondo dove per normativa non possiamo superare due volte e mezzo l'altezza del voltino perciò in questo caso se abbiamo un'altezza di tre metri due e mezzo per tre possiamo rendere agibili 7,5 metri dal serramento di profondità del locale stesso ma in questo caso gli ultimi quattro metri di profondità non vi è possibile appunto avere l'agibilità in quanto la profondità locale supera la normativa regionale allora abbiamo posizionato in questo caso due sola tube di S290 ai lati abbiamo preferito posizionare ai lati perché era un edificio con due piani e non volevamo appunto apportare una colonna fastidiosa al piano sovrastante semplicemente l'abbiamo fatto scendere vicino a una parete verticale mascherato con un cavedio dato tra virgolette un'inchinazione di 30 gradi verso il centro e fatto una verifica e questi 20 metri quadrati li abbiamo resi agibili col fattore di luce di urna in questo caso è stato il 2,5% perciò tutta la profondità tutto locale nella sua profondità è diventato agibile in quanto le normative prevedono appunto il fattore di luce di urna può eliminare o sostituire quello che riguarda i rapporti illuminanti applicazioni particolari questa è un'applicazione molto interessante dove abbiamo messo delle calotte captatrici in una superficie verticale ben esposte alla luce del sole come vedete abbiamo trasportato la luce naturale fino a 28 metri di distanza curva 90 gradi e abbiamo reso agibili tramite il fattore di luce di urna 8 ambienti odontoiatrici 8 locali odontoiatrici appunto con la luce naturale e vedete insomma la finitura col pannello 60 per 60 oppure pensate supermercati dove in questo caso abbiamo una permanenza fissa di persone nelle zone casse una zona somministrazione carne e pesce o verdura dove la normativa richiede appunto un rapporto illuminante o un fattore di luce di urna del 2% sono fatti dei calcoli ben specifici in funzione alla lunghezza del condotto e in questo caso sempre col software di calcolo verificato le quantità di luce e in questo caso vedete che abbiamo reso agibile con un sesso da tube di S330 esatto C una superficie con 5 metri di distanza con da 5 metri di distanza dalla copertura in quanto doveva essere appunto una somministrazione di carne o pesce dove c'è una permanenza fissa di persone internamente dell'edificio la stessa cosa nella zona di un supermercato si possono fare delle verifiche andando a sovrapporre i nostri coni di luci logicamente più la maglia è fitta più l'intensità è maggiore suddividere le superfici di calcolo per fare delle verifiche 3D su un'eventualmente zona cassa o zona somministrazione ecco qualsiasi zona dove vi è richiesto uno studio specifico dell'illuminazione naturale come in questo caso è la zona somministrazione della carne e pesce e carne e formaggi e anche qui fatte delle verifiche dinamiche per vedere cosa succedeva non solo a cielo coperto ma neanche ma anche a giugno quando vi è un cielo completamente sereno ed è importante capire che la luce naturale deve essere appunto schermata nel periodo estivo e invece aiutata a arrivare fino al nostro contro soffitto soffitto con degli angoli di incidenza migliori nel periodo quando il sole è basso all'orizzonte ecco vedete noi abbiamo delle lenti di Fresnel sulla calotta che quando il sole è basso all'orizzonte perciò per il periodo autunnale primaverile e invernale aiutano dare una maggiore inchinazione al raggio solare ma queste lenti di Fresnel quando il sole supera i 55 gradi diminuisce la superficie captante perciò parte entra e parte esce per eliminare innanzitutto l'eventual abbagliamento ridurre il calore ma soprattutto per mantenere una costanza di illuminazione nel tempo ecco vediamo la differenza quello che vi ricordate prima vedevo sul diametro da 53 cm abbiamo due tipi di captazione una calotta prettamente liscia questa qua sinistra con una parabola posizionata a sud chiamato light tracker o una calotta con lenti di Fresnel ecco vedete che in primavera e in autunno la linea viola che sarebbe la lente di Fresnel abbiamo una consistenza di illuminazione maggiore cioè nel senso abbiamo nel periodo di tempo molta più luce disponibile in estate invece le lenti di Fresnel tagliano il picco di illuminazione nelle ore centrali dove appunto può esserci un eccesso di illuminazione un abbagliamento ma anche calore ed inverno quando il sole e il basso l'orizzonte dà meglio di sé perché le lenti di Fresnel aiutano ad incrementare quello che riguarda il trasporto della luce naturale e vedete una simulazione fatta sempre con dei programmi di calcolo il 21 giugno mezzogiorno cielo completamente sereno in un locale con le medesime caratteristiche vedete che la calotta con il DS330 completamente lisce permette di arrivare anche a 3200 lux eccessivi in questo caso invece con il DS660 riusciamo a ridurre l'apporto luminoso a un logicamente parliamo sempre di 1200 lux che non è assolutamente poco riusciamo tra virgolette in funzione alla destinazione d'uso del locale a scegliere o darvi dei consigli o utilizzare il prodotto più idoneo ma per quanto riguarda le performance del trasporto un altro elemento fondamentale è il condotto dove diciamo vi sono quattro tipologie di prodotti con una superficie di riflessione speculare considerevole chiamiamola considerevole in quanto l'aluminio anodizzato ha un indice di riflessione speculare dell'84% ma dovreste vederlo è molto scarso invece l'alluminio lucidato ha un 95% di riflessione speculare l'ossido d'argento consente di arrivare a un indice di riflessione del 98% invece lo spectro light infinity il nostro prodotto ha una riflessione speculare del 99,7 ecco qua è pura matematica cioè utilizzando l'ossido d'argento ad ogni rimbalzo perdiamo il 2% se ipotizziamo 20 ipotetici rimbalzi utilizzando l'ossido d'argento abbiamo solo un 66% trasportato e un 34% perso invece se andiamo a utilizzare lo spectro light di infiniti dove l'indice di riflessione speculare è un 99,7 il 94% rimane trasportato e 6% perso ecco pensate che un sole inclinato a 45 gradi queste quantità e questi angoli senza considerare le lenti di Fresnel che aiutano avere un angolo di incidenza migliore le abbiamo meno di 2 metri tra virgolette di percorso perciò chi utilizza l'ossido d'argento che ha una riflessione speculare del 98% dove un occhio non attento sembra minimo rispetto al 99,7 vi è un abisso di quantità di luce ecco poi è difficile farvelo vedere insomma allo schermo ma lo spectrario di infiniti vedete che rimane una luce bianca perciò non alteriamo lo spettro cromatico invece l'ossido d'argento se per un occhio attento la luce rimane molto più gialla perciò altera diciamo l'ospetto cromatico della luce naturale stessa vediamo diciamo bloccando l'infrarosso e l'ultravioletto blocchiamo gran parte del calore e vedete appunto che abbiamo dei file fotometrici ben precisi in funzione del diffusore che consentono a fare dei calcoli in luminotecnici specifici rispettando sempre i parametri ambientali ecco da un punto di vista energetico mi soffermo solo dicendo che un centro commerciale diciamo la quantità di energia consumata totale l'illuminazione pesa un 40% invece nelle scuole l'illuminazione pesa quasi un 50% ecco pensate a quello che riguarda queste sono medie su base europea pensate quello che riguarda le riduzioni che possiamo ottenere il carico energetico e di emissione di anide carbonica nell'ambiente se andiamo a fare una progettazione ad hoc in ambienti commerciali tipo una scuola dove possiamo ridurre diciamo nel 50% il consumo energetico di quell'edificio se sfruttiamo correttamente la luce naturale adesso come adesso vi faccio vedere degli esempi di applicazioni in questo cavedio completamente vetrato dove la luce non filtrava in profondità il progettista ha posizionato il solatucco con collettore e concentratore per poter proiettare verso il basso molta più luce rispetto alla soluzione pensata in maniera originale che era solo un astrico in vetro ospedale Mayer di Ferenza ospedale pediatrico è stato applicato un'ottantina di solatub davanti appunto a questa finestra che confina con la camera del bambino internamente oppure una clinica questa qua a Varese dove hanno creato dei corridoi dove appunto erano molto bui hanno pensato di mettere appunto dei solatub per far sì che trasformare questi corridoi anche in sale d'attesa e essere illuminate naturalmente facendo vedete dei percorsi molto tortuosi per evitare ostacoli nel percorso luoghi di culto applicazioni eh residenti diciamo con quello che riguarda isolamento acustico che abbiamo possiamo inserirlo senza nessun problema negli ospedali o anche nei luoghi di culto dove sono gli edifici che hanno la maggiore tra virgolette insonorizzazione in assoluto in quanto hanno delle specifiche tecniche specifiche il museo Pecci di Prato dove l'architetto Nio e Kino Workshop con l'illuminotecnico Bernardo Di Polito hanno appunto pensato di illuminare naturalmente un museo e le opere d'arte in quanto il solatub bloccando l'infrarosso e l'ultravioletto non va a inficiare sulle opere d'arte vi è un otturatore che consente appunto di creare dei giochi di luci specifici oppure applicazioni copertura verde in questo caso copertura con delle vigne no in provincia di Trento oppure applicazioni customizzate su una biblioteca sempre in provincia di Varese un centro polifunzionale oppure nell'asili nido dove vi sono per normativa devono rimanere tutto su un piano perciò è difficile avere dei rapporti illuminanti nella profondità in un locale tutto un piano perciò riusciamo vedete a posizionare il solatub nelle parti più interne e a creare questi ambienti vivibili e più sfruttabili anche la luce naturale applicazioni sospese vedete che sono in solatub sospese semplicemente ecco progettisti che creano una lunghezza sulla tuba in funzione dell'altezza delle lampade esistenti in modo tale di non creare ombre da impianti elettrici o se fate impianti di condizionamento applicazioni sospese dove l'architetto ha voluto lasciare sospeso sia l'illuminazione elettrica in questo caso che il solatub qua si vede un po' meglio nell'insieme oppure vedete sempre una sala aspetto una sala d'attesa che non confina con l'esterno dove può ogni la persona che attende può avere appunto la luce naturale anche in questo tipo di ologia di locale e vedete dove l'architetto ha sfruttato appunto dei colori molto sgargianti per andare a evidenziare il colore tramite la luce naturale McTorna utilizza il solatub per ridurre la CO2 nell'atmosfera e quello che riguarda il consumo energetico all'illuminazione oppure da un punto di vista architettonico dell'architetto che ha voluto creare una nuvola al piano al sovrapiano con un controsoffitto con una forma particolare dei diffusori 60x60 applicazioni in orizzontale dove la calotta è stata messa in una parete il tubo scorre in orizzontale e poi fa una curva per avere una diffusione in questo locale commerciale adibito adibito a una sala delle sale riunioni palestre che abbiamo visto in precedenza palestre da arrampicate cantine vinicole vedete questa è Oddero in provincia di Cuneo dove solitamente le cantine sono sempre state nascoste dalla luce naturale perché il calore poteva dar fastidio e alterare il vino e qui invece addirittura la cantina Salchetto di Montepulciano dove non ha assolutamente luce artificiale si è affidato solamente a noi per fare invecchiare il vino nobile di Montepulciano nelle barricche sotterrate addirittura a 24 metri di distanza se avete la possibilità di andare a Salchetto in questo tipo di cantina sicuramente berrete del buon vino ma potete vedere sulla tuba in azione con appunto negli ambienti che vi ho descritto applicazioni veramente al di fuori dello standard sulle pareti dove riusciamo a portare la luce fino a 28 metri in profondità per rendere agibili delle sali odontoiatriche oppure semplicemente dei poli produttivi logistici dove vogliamo appunto ridurre il carico energetico e vengono posizionati in mezzo alle scaffalature per poter appunto illuminare le aree di lavoro o officine meccaniche attrezzerie dove la luce naturale è un elemento fondamentale per il lavoro di precisione e qua vedete che hanno utilizzato dei solo tub su banchi da lavoro sulle postazioni di lavoro per poter avere questa fonte di luce ottimale applicazioni sempre di riduzione energetiche la old speaker di Bolzano dove appunto ho posizionato più di 70 unità per ridurre l'impatto energetico o applicazioni di catene di montaggio dove vogliamo avere un'uniformità di illuminazione logicamente essere fatto uno studio a priori con un layout appunto dello sviluppo della catena di montaggio stessa e vedete qua appunto al momento in cui stavano installando la catena di montaggio e in questa fase cantieristica sulla tuba aiutava appunto la visualizzazione del montaggio senza porto di luce elettrica o addirittura la luce naturale è un po' farmaceutico viene utilizzata in questo caso in applicazione di aghe culture perché la sua frequenza la sua intensità consente appunto di avere dei benefici ottimali in questo tipo di aghe culture applicazioni architettoniche interessanti dove il progettista De Beni in questo caso ha voluto inglobare luce artificiale luce naturale e un effetto architettonico ben specifico oppure progettisti che hanno customizzato queste cubi fluorescenti in un ufficio rendendo appunto unico quello che riguarda un'illuminazione naturale tramite appunto solo tube e dei tessuti semitrasparenti che consentono di avere un effetto visivo interessante applicazioni dove vedete in copertura un quantitativo diciamo molto elevato di sola tube con delle inclinazioni particolari ma è una società che tutti conoscete dove i buchi nel formaggio danno un valore aggiunto ben specifico e l'architetto ha voluto creare questo nel controsoffitto appunto per valorizzare quello che riguarda il prodotto fatto in questo tipo di fabbrica ho appunto sempre effetti customizzati dai progettisti dove vi sono dei tessuti semitrasparenti che consentono di diffondere la luce e avere dei giochi di luce interessanti in sale gioco società o effetti wall wash un tempio buddista dove la luce naturale esalta i colori di questi manufatti locali scusate oppure andare a illuminare piani sottostanti al piano zero piani interrati con la luce naturale con vedete del semplici predisposizione di camini impermeabilizzati è stata messa poi una ghiaia attorno a esso in modo tale che la vegetazione non andava a ombreggiare la captazione oppure quello che riguarda le illuminazioni vedete dove il condotto verticale e l'architetto ha voluto dare in questa sala ricreativa in questa società appunto un'illuminazione come se fossero appunto degli oblò di una nave su una parete verticale applicazioni del red urbano integrate all'illuminazione naturale ecco possono essere applicazioni interessanti in questo caso per andare a illuminare dei garage sottostanti vedete qua in basso a sinistra la realizzazione esterna oppure applicazioni di illuminazione di cucine di centri commerciali alberghi oppure appunto creando questi effetti wall wash per andare a illuminare delle opere d'arte o dei musei oppure cose specifiche dove andare a illuminare dei cavedi dove siete utilizzati dei prodotti in policarbonato per andare a creare delle vetrine in metropolitana risaltando i colori con la luce naturale come abbiamo visto l'agoculture c'è per chi è appassionato di coralli è stata posizionata insomma la tube per andare a dare lo spettro della luce naturale e creare quello che riguarda la formazione dei coralli che è abbastanza difficile di solitamente vengono utilizzate le lampade particolari che hanno un consumo energetico molto elevato e hanno bisogno di parecchie luci perciò in questo caso utilizzate dei solatube questo acquario corallino per andare appunto a portare la quantità di luce adeguata per il loro sviluppo mi piace concludere diciamo se avete delle domande specifiche con questa frase che diamo luce alle vostre idee con la speranza che i vostri progetti diventano realtà la ringrazio grazie mille signor Gallo ha ricevuto tantissimi complimenti per tutta l'esposizione quindi la ringraziamo per questo e infatti è arrivata anche qualche domanda nella prima chiede vorrei capire meglio la tenuta all'acqua del sistema ok allora diciamo vado a prendere la slide su applicazioni se andate a vedere sul nostro sito www.infinitimotion.com vi sono delle risorse tecniche abbastanza importanti magari vi faccio vedere dove trovate queste indicazioni su infinitimotion.com tubo solare risorse tecniche su gamma prodotti disegni DVG innanzitutto c'è una tabellina epilogativa in funzione alla superficie illuminabile a lunghezza percorribile ma qua vedete esempio degli schemi applicativi in funzione al tipo di copertura ecco vedete viene posizionata una scossalina a livello della barriera vapore per l'attraversamento di un pacchetto tetto un'altra scossalina a livello delle tegole per avere solo attraversamento del pacchetto tetto il diffusore con la medesima inclinazione è possibile scaricare il dvgpdf oppure se dobbiamo attraversare un solo tetto un abitato o un piano vi è una scossalina inclinata che compensa l'inchinazione della copertura per avere un percorso rettilineo o un ingombro inferiore anche qua abbiamo due scossaline una a livello della barriera vapore e l'altro a livello delle tegole ecco poi dopo ci sono diverse soluzioni tipo creazione di cordoli sì non non ti sento tutto bene tutto bene mi scusi se non callo può continuare ok ecco perciò vi invito ad andare a vedere il nostro sito infinitimotion.com e ci sono delle soluzioni tecniche in funzione al 99,9% delle coperture in Italia dove si possono vedere eventuali ingombri della curva per il posizionamento in quanto noi abbiamo un prodotto che è applicabile in quasi tutte le coperture che parlo quasi perché abbiamo più di duemila anni di storia e dobbiamo appunto fare delle verifiche ma la cosa più complessa è trovare i percorsi e i loro ingombri perfetto grazie mille grazie signor Gallo e l'altra domanda chiede quanto influisce il periodo dell'anno e l'orario sulla luce bella domanda diciamo che quando parliamo di luce naturale la luce è in funzione di condizioni esterne luce naturale perciò d'inverno solitamente abbiamo una luce diffusa c'è un cielo nuvoloso molto più frequentemente che delle giornate nelle giornate estive cambia cambia parecchio però è come una finestra diciamo la luce naturale non varia esternamente se si utilizza diverse tecnologie logicamente questo tipo di tecnologia consente di prendere la luce della volta celeste infinitamente grande e incanalarla in un tubo passatemi il termine infinitamente piccolo perciò è molto più performante da un punto di vista di resa luminosa rispetto a qualsiasi tipo di lucernario e poi è trasportabile fino a un controsoffitto o un ambiente interno perfetto grazie mille poi un'altra domanda si presenta anche il problema dell'ingresso del calore oltre la luce bloccando l'infrarosso e l'ultravioletto lo blocchiamo passa dell'ultravioletto via UVB o UVBC passa mi sembra lo 0,02% perciò è molto importante per tutti i locali dove ci sono materiali vivi tipo parquet mobili in legno che potrebbero sbiadire con i ultravioletti ecco invece bloccando l'infrarosso blocchiamo quasi tutta la parte negativa del calore cioè blocchiamo l'80% del calore perfetto grazie mille e ultima domanda che rapporto c'è tra l'altezza della sorgente e la parte terminale non mi è chiara la domanda se ho capito bene nel senso quale potrebbe essere la perdita di illuminazione penso averla capita così penso di sì presuppongo di sì magari la persona che ci ha fatto la domanda se vuole appunto specificare ok ci ha appena detto di sì ok perfetto diciamo che la quantità la luce trasportabile come abbiamo visto dipende molto dal materiale perciò ad ogni singolo rimbalzo perdiamo lo 0,3% perciò dipende molto dall'altezza solare però avendo le lenti di Fresnel che aiutano quando il sole e il basso orizzonte dare un'inclinazione maggiore perciò più favorevole diciamo abbiamo una perdita di un 1% a metro lineare più o meno ok sì infatti ci ha specificato che parlava del fattore H ok ok grazie mille allora penso non ci siano ulteriori domande e vi ringraziamo come sempre per tutte le domande per aver per essere intervenuti durante l'evento e grazie soprattutto a Gallo e tutta Solatube per questo per quest'altro webinar ringraziamo ovviamente tutti quanti per aver preso parte al webinar e invitiamo tutti a visionare le soluzioni proposte dall'azienda che troviamo sia appunto nel webinar che avete visto oggi che sul nostro catalogo ed il BIM oppure anche direttamente sul sito Solatube e a tal proposito infatti potete non esitate ovviamente a contattarci per qualsiasi richiesta ulteriore riguardo proprio l'azienda anche successiva e chiudiamo quindi questa puntata ricordandovi che questo webinar come tutti gli altri sono presenti ovviamente nei prossimi giorni verranno caricati sulla nostra piattaforma Esna Academy on demand fruibile per i soli iscritti ovviamente potrete rivedere i video e come detto contattare l'organizzatore o l'azienda partner per eventuali richieste o approfondimenti ringraziamo ancora una volta tutti voi che come sempre ci seguite numerosi e vi invitiamo a restare in contatto per scoprire i prossimi appuntamenti dedicati proprio alla formazione grazie grazie signor Gallo e un buon proseguimento di giornata a tutti perfetto grazie a voi grazie a tutti